parliamo adesso di come individuare tempo e temperatura allora la prima cosa da capire su chi è possibile applicare la bassa temperatura teoricamente su qualsiasi cosa chiaramente qualche cosa ha senso e qualche cosa non ha senso se voi volete applicare la bassa temperatura su dei ceci ad esempio che hanno una temperatura di gelificazione che viaggia intorno agli 88 91 gradi è un pochino troppo alta anche se alcune varietà arrivano 81 però la temperatura di cottura che si suddivide fra quella di denaturazione delle proteine e quella di gelificazione di carboidrati che ci sono all'interno è un po' alta per questi generi alimentari quindi il concetto di bassa temperatura già va un po' a perdersi questo non vi nega la possibilità di utilizzare la però mettete su un genere alimentare a un costo limitato anche il costo della busta di plastica del trattamento eccetera eccetera e chiaramente vi si alza se per questo avete in mente qualche cosa di particolare chiaramente diverso oppure andando proprio dalla parte opposta per la cottura del pesce i pesci hanno cotture estremamente brevi a temperature estremamente basse quindi molto spesso non ha un grandissimo senso quello di utilizzare la bassa temperatura per la preparazione di questi alimenti però magari volete in qualche maniera aumentare la self life o la sicurezza alimentare perché vi trovate in una situazione complessa beh questo è un buon metodo per poterlo fare però tornando in un mondo un po più generale diciamo che la bassa temperatura viene applicata quasi essenzialmente a quelle che sono le proteine di natura animale e del mondo poi delle dei pesci e degli altri e degli altri alimenti che vengono fuori dal mare perché principalmente rispetto a queste perché la il fatto di selezionare una determinata temperatura ha una qualità che per il mondo degli vegetali non esiste in verità questa qualità è la seguente supponiamo e vi dico supponiamo perché non è detto che sia così semplice la spiegazione di lavorare con un entrecote e qui queste entrecote sono entrecote molto standard poco per nulla amarezzata anzi di una bestia ea circa 24 fra 18 e 24 mesi potrebbe essere una scottona una limousine scottona per capirsi quindi un animale molto standard come tipologia che ha fatto un po di installatura 20 giorni di riposo non c'è la friga frigo quindi proprio lo standard della carne questa qua come temperature si può indicare alcune temperature di cottura che dovrebbero funzionare ora prendiamolo questo con le molle poi vi spiego perché queste temperature sono molto al sangue 48 gradi 50 al sangue 52 al punto 55 cotta 60 no per favore o ben cotta queste temperature non individuano soltanto un punto di cottura della carne ma individuano anche quale classe di proteine va a denaturarsi cioè se io lavoro a 48 gradi denaturerò tutte le proteine si possono denaturare a 48 gradi ma quelle di 50 di 52 di 55 di 60 no e vi ricordo durante la denaturazione le proteine passano dalla fase quaternaria a quella primaria perdendo una marea di acqua e questa cosa a noi ci interessa molto perché la perdita d'acqua è correlata alla morbidezza di un alimento più un alimento è ricco d'acqua più questo alimento sarà morbido meno grassi avrò bisogno di utilizzare in cottura quindi se io lavoro con una carne al sangue questa carne sarà una carne che potrà essere presentata mantenendo l'alimento più simile a se stesso valorizzando le sue i suoi sapori e evitando l'aggiunta di grassi quindi se io lavoro a 48 gradi denaturerò solo quel gruppo proteico a 50 della natura eroe 48 e 50 52 di 48 50 52 ma non i 55 60 quindi se io rimango fino al tempo in cui arriva la temperatura del mio bagno termico al cuore in quel momento per le carni rosse in particolare è cotto l'alimento ho scelto 48 gradi per la mente cotto supponiamo che sia un mentre cotto da circa sei centimetri di altezza quindi due ore e mezzo per arrivare al cuore quando arrivato al cuore è cotto ma la morbidezza chi me la dà beh me lo dà il tempo di permanenza a quella determinata temperatura perché è vero sì che i gruppi proteici superiori cioè quelli che denaturano a temperature superiori non perdano acqua e non denaturano ma se io li agito questi gruppi avranno sì certo una conseguenza questa conseguenza sarà il progressivo ammorbidimento delle carni quindi se io questa fantomatica intrecotta e sto cuocendo la voglio avere tal quale come è cioè semplicemente cotta e senza avere quell'effetto della cultura la griglia stratificato per cui avrò un grigliato un ben cotto un cotto eccetera eccetera ma tutta cottura omogenea supponiamo a 50 gradi una volta raggiunto le ore le due ore e mezzo io la tiro fuori dal dal mio bagno termico la batte in acqua e ghiaccio e poi la rigenererò a una temperatura che si spera non sia superiore ai 47 gradi a questo punto la rigenerò per una quarantina di minuti e poi la griglierò ma è la morbidezza io voglio magari no magari sto usando una carne che un po tenace io voglio ottenere una morbidezza diversa o voglio ottenere per esempio uno scambio con bolla salvia ci ho messo dentro il sacchetto il burro lardo non lo so allora che faccio lungo il tempo se invece di due ore e mezzo la tengo 45 ore diventerà molto morbida e quindi potrò lavorare con carni tenaci che di solito sono anche carni più saporite e manipolando quella è la morbidezza dell'alimento per esempio il cervo è una carne che gode moltissimo di questa determinata cottura la sella di cervo 52 gradi per una cottura complessiva da un'ora e 50 mantiene la struttura del cervo se invece la portate a una cottura da tre ore e mezzo diventa estremamente morbida a questo punto la battete in acqua e ghiaccio poi la rigenerata a 47 gradi a quel punto la potete saltare come volete io per esempio gradisco molto delle panure fatte con i funghi essiccati oppure si può semplicemente saltare dentro una padella e poi napparla al burro nelle erbe aromatiche quindi vedete che tempo e temperatura sono correlate da una parte da un ragionamento tecnico su qual è la temperatura io voglio inquadrare su un alimento come si fa a sapere qual è questa temperatura beh lì entra la vostra cultura culinaria c'è da una parte voi avete conoscenza di quali sono le temperature dall'altra dei test cioè via via lavorate un alimento dovete provare un grado in più grado in meno mezzo grado in più mezzo grado in meno per trovare la temperatura perfetta quella è la vostra bocca che ve lo dice per il tempo vale la stessa nozione più tempo lo tenete più questo alimento tenderà a diventare morbido ecco come si scopre tempo e temperatura